E bella a tutti ragazzi, sono Giliber e sono finalmente tornato a fare video su Fortnite Oggi vi mostro tutte le mie migliori clip Clip Fatte con il cecchino cazzeggiando Prima di partire però vi voglio dire che non ho portato video perché stavo aspettando questo qua Che è il microfonino della Samson Che si chiama Samson Meteor Mic Costa 48 euro Ho deciso a me di investire questi 48 euro per migliorare la qualità audio Visto che non mi piaceva, io sono abbastanza un perfezionista Non mi piace fare le cose non fatte bene Volevo dirvi però che se qualcuno di voi vuole aiutarmi A ragazzuoli Aiutarmi a coprire il costo Io sono ben felice di accettare le donazioni Infatti devo ringraziare Davide e Filippo che mi hanno donato rispettivamente 9 e 1 euro Quindi 10 euro donati da loro sono stati investiti Quindi 48 euro speso per questo microfono qua Nulla regà direi che cerchiamo di arrivare a 70 likes e poi Ragazzuoli Possiamo, sapete cosa? Partire con le clip Ragazzuoli partiamo subito con le clipozze Vi dico già che sono in ordine cronologico Però in realtà ci sono due clip vecchie E tutte le altre sono delle ultime due settimane Infatti le prime due clip Se così possiamo chiamarle Sono fatte quando giocavo ancora con joystick Le altre tutte sono con mouse e tastiera Allora regà partiamo Partiamo dal presupposto che questa qua L'ho fatta non apposta Per sbaglio Credo di avere il pompa semi automatico Dopo il pompa one shot per switchare Invece avevo il cecchino perché mi ero dimenticato di sistemare l'inventario Ho fatto quick e l'ho preso Questo qua in realtà non è nemmeno assurdo Però è un headshot fatto da 175 metri Si centimetri, ciao Metri che non è malissimo però Oh, regà per iniziare non era male Infatti l'avevo salvato Questa qua invece mi è piaciuta molto di più Anche perché è stata una partita vinta in duo versus squad Con mie 7 kill che non sono tantissime Però regà non si butta via niente Questo qua è un quick che mi è piaciuto molto Perché io sono un amante dei quick Per chi mi conosce se ero uno sniper su Call of Duty E quindi mi piaceva fare quick Questa qua invece è una partita che ho vinto in solo Facendo l'ultima kill con lo sniper da 227 metri Perché regà pulite pulite in endgame Non sono male Questo qua ho provato il 360 così Pulito Non l'ho preso E allora ho detto vabbè li chido tutti e due E invece uno me l'ha rubato l'altro e l'altro l'ho fatto io Adesso un bel quick cozzo Pum Pitch Qua allora parliamo del presupposto che era in una situazione Chiaramente di svantaggio totale Perché lui era più in alto col cecchino Se sei più in alto sei molto avvantaggiato Infatti adesso mi prende Non mi toglie tanto Forse mi ha preso con la balestra Non lo so comunque mi ha tolto poco O no con il cecchino semiautomatico Però gli sparo un bel headshot E lui Rosicherà Allora qua vi dico già Che ho avuto abbastanza cool Ma penso di essere anche stato Bravo io Perché? Allora qua lo predicto bene Perché lo predicto bene Però mi è entrato un headshot Che forse Cioè molto probabilmente non sarebbe mai entrato Infatti tolgo 200 Quindi penso che avrei dovuto Prenderlo Ma hitmarkerarlo Io Qua guardate Sempre in questa partita Rispetto alle prime due kill Qua regà Guardate siamo in qua Quattro in una save così piccola Io decido di pushare Sto qua che faceva il cavallone Ho detto vabbè Lo push Mi prendo il mio pompa Eh sì Il cecchino semiautomatico Oro E quick Boom Headshot Che non era male Ho avuto un po' culo Perché Facendo quick delay Prenderlo in headshot Ho avuto abbastanza cool Qua invece sono passato Abbastanza bravo Penso Fatemi sapere anche voi Se vi sono piaciute le clip Qua L'ho predicto bene 105 di down Non l'ho preso in testa Purtroppo Però È stata una bella Bella kill Cioè A me è piaciuta Qua è stata Una delle mie clip preferite Perché faccio un quick Assurdo Boom Questo cazzo è stato molto molto carino Qua regà Faccio una kill Che secondo me È assurda Cioè Da 200 passometri Prendo un Orsacchietto rosa Che Le kill sui orsacchietti rosa E le rosa Valgono di più Da 233 metri L'ho L'ho buttato a terra Pulito Qua invece ragazzi Se fate attenzione Ho un colpo di cecchino Solo C'era già un week lì Ho detto Lo kill o non lo kill Lo kill o non lo kill Ma certo che lo kill Ma per forza Qua Stavano trollando l'ultimo Ho detto Beh Faccio un quick Non so come Mi è passato in mezzo al muro Però Prendo E porto a casa Non è male ragà Un bel quick Adesso vedete La mia kill Preferita in assoluto Col cecchino Non è assurda Però mi piace veramente tanto Perché l'ho quickato bene E mi sono sentito ninja Per quei 10 secondi Boom Headshot Così Ho fatto una reazione Un po' ambigo Però Qua regà È l'ultima Ed è un bel quick L'ho fatto oggi Perché Ricordatevi Se avete un cecchino Un pompa Il cecchino Lo usate da vicino E il pompa Lo usate da lontano E così che funziona Qua Ho fatto un bel quick L'ho tirato per terra E La gente Parla Comunque regà Spero che questo video Vi sia piaciuto Resto un bel like Ozzo Cerchiamo di arrivare a 70 E nulla regà Ci becchiamo Bella regà Suoli